La coalizione di centrodestra a sostegno del candidato Marco Marsilio ha ottenuto il 53,5% dei voti, secondo i dati definitivi del Viminale, 46,5% per la coalizione di centrosinistra che ha sostenuto il candidato Luciano D'Amico. Mai negli ultimi 30 anni un presidente era stato riconfermato in Abruzzo. È stata scritta una pagina di storia e ha battuto un altro muro, questo è il commento del governatore rieletto. La SLAIN invece dice continueremo a batterci con ancora più determinazione per costruire un'alternativa solida al centrodestra. La vittoria di Marco Marsilio non esaurisce comunque l'analisi del voto in Abruzzo. Nonostante la presenza di due liste con il nome dei candidati governatori, la corsa nella regione certifica che il partito che ha ottenuto il maggior numero di preferenze e Fratelli d'Italia con il 24%, seguito dal partito democratico con il 20%, la terza piazza è a pannaggio di Forza Italia che conquista il 13,2%, mentre la Lega è al 7,6%. Il Movimento 5 Stelle crolla, ottiene il 7% e arriva dietro la lista civica Abruzzo insieme 7,6%. L'affluenza intanto si ferma al 52,2%, in calo del 0,91%, rispetto alle precedenti regionali del 2019. Fratelli d'Italia aumenta di molto i consensi rispetto alle precedenti elezioni regionali, ma è in calo rispetto alle ultime politiche dove aveva raggiunto un ragguardevole 27,9%. Il PD cresce sia rispetto al 2019 che al 2022, quanto si era firmato al 16,6%. Anche Forza Italia è in crescita, in calo il Movimento 5 Stelle. Nel 2019, correndo in solitaria, ebbe il 19,7%. Nel 2022 il 18,5%. In crescita sia noi moderati che l'Udc nel centro-destra e AVS nel centro-sinistra, che ottiene il 3,6%. Nel 2019 l'EU ebbe il 2,8%. Nel 2022 l'EU ebbe il 2,7%. Male azione. Il partito di calenda nel 2022, con Italia Viva, prese il 6,3%. Ora ha il 3,79%.